Sono più di 50 le macchine industriali, tra le quali cucitrici, stampanti termiche, taglia, cuciri, camatrici, strumentali alla produzione di 100.000 prodotti con marchi contraffatti di varie società calcistiche scoperte dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno in una fabbrica situata nel comune di Pagani. A seguito di appostamenti, i militari della compagnia di Scafati sono riusciti a ricostruire una filiera di produzione di articoli sportivi contraffatti, individuando, oltre agli esercizi commerciali dove avveniva la vendita al dettaglio, anche la fabbrica di produzione con annesso deposito operante nel settore del falso. La merce individuata veniva prodotta con una licenza scaduta o non rinnovata o, per alcuni marchi, in completa assenza della stessa. I militari hanno dunque proceduto al sequestro degli articoli sportivi e anche della fabbrica, il capannone utilizzato come deposito, ma, come dicevamo, all'interno del quale le fiamme gialle hanno ritrovato tutte le macchine occorrenti per il confezionamento della merce. La rappresentante legale della società è stata deferita alla Procura della Repubblica con l'accusa di fabbricazione di prodotti contraffatti, aggravata dall'organizzazione dei mezzi predisposti per lo svolgimento dell'attività. Gli articoli sottoposti a sequestro, se messi sul mercato, avrebbero potuto fruttare oltre un milione e mezzo di euro.